allora stavolta lavoriamo con il frammento che abbiamo letto anche la scorsa volta vi mandiamo poi quel pezzo del testo dell'autore così lavorerete con quel testo e poi avremo anche il metodo audio che potrete ascoltare quindi così ascolterete anche il testo della lezione e poi con questa percezione fondamentale per esempio quando lo leggete quando lo ascoltate questa lettura ripetitiva la vostra comprensione dunque le leggi fondamentali i metodi i principi della risurrezione delle persone creatrici delle persone creatori a questo livello Gregorio Petrovic mostra che ogni oggetto dell'informazione viene ricostruito pienamente e noi per esempio attraverso questo quadro della manifestazione dell'eternità guardiamo alla realtà quindi noi così guardiamo qualsiasi cosa e vediamo che qualsiasi cosa con la quale il nostro sguardo interagisce diventa eterna così vediamo l'intero mondo come il mondo è felice come il mondo è pienamente felice così entriamo in questa modalità di chiaroveggenza di chiaroveggenza pilotante e quando iniziamo a pensare così allora questa è la gestione per ricreare ogni oggetto, qualsiasi oggetto al quale pensate e così come dice Gregorio Petrovic così qualsiasi oggetto dell'informazione si ricostruisce pienamente quindi così iniziamo a pensare al mondo, alle persone le vediamo quindi nel loro stato originariamente divino se noi così vediamo che quando vediamo il mondo in questo modo da allora vediamo che per esempio l'erba è stata così creata dal creatore che per esempio questa erba non diventa secca, non muore eccetera cioè vediamo il mondo così come Dio originariamente l'ha creato questo è il paradiso, così percepiamo il mondo, il mondo dei viventi, il mondo delle persone, degli animali così come viene descritto dal concetto del paradiso il nostro compito è quello di realizzare questo regno divino l'instrumento per la realizzazione del paradiso sulla terra è il nostro pensiero quindi Gregorio Petrovic dice che dobbiamo semplicemente permettere al nostro pensiero di ricostruirci quindi dobbiamo semplicemente permetterci di pensare in questo modo quando, per esempio, quando pensiamo all'evento di Hiroshima prima di Nagasaki allora vediamo che, per esempio, noi ricostruiamo questi eventi cioè noi, per esempio, aggiungiamo l'eternità in quegli eventi li ricostruiamo come se non fossero avvenuti così e che invece sono successi altri eventi più felici, più favorevoli per esempio Таким взглядом, noi, non solo, non solo, ma solo tutto il nostro оружio massimo per la realizzazione, si non si vede in questo modo se non si vede in questo modo, noi lo sovrappiamo in questo modo lo sovrappiamo in questo modo, noi lo sovrappiamo in questo modo e quindi così, dove lo sovrappiamo? Sfero 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 Quando Sto facciamo Oruzie Non solo Ma massolazione Oto viva in sfero Nerealizazione Prodicazioni politiche Ressure Oto scelta Se si scelta Proscere раскрываем. Это нужно в сферу отдельно, да, выявлять так? Это мы просто знаем, да, Нафис? Мы главное смотрим по прошло. Мы идём, да, идём по линиям жизни. Смотри, и вот ты идёшь по линиям жизни всех людей, и не возникает никакого оружия. Вот ты вот так вот проводишь через текущее, дальше на бесконечность, и получается, ты от текущего эту информацию, оружие, ты её как бы отжимаешь. Она вообще не доходит. Она уходит в сферу нереализации. Ну, вообще отходит от реальности, да? Просто мне нужно объяснить подробнее, потому что они не поймут, если они не поймут, они тоже не поймут. Alors, мы делаем так, что, например, в 40, мы начали в сферу в Индии, в инфляции, что, в инфляции, мы имеем визущество армии, в том числе, армии нуклеарной, в Индии. И в инфляции, что мы делаем? Мы using this event, то, что остается из использования между армиевыми, песни PCR, aria eccetera, portiamo via questo evento dalla realtà nella sfera di non realizzazione, non è esattamente una sfera ma è un'area di non realizzazione, cioè per così dire noi disattiviamo questo evento come se le armi proprio non esistessero e così facciamo anche con il passato. Così guardiamo tutti gli eventi, guardiamo tutti gli eventi del passato, del futuro e vediamo che tutti gli eventi del passato e del futuro sono gestibili, sono pilotabili sotto il nostro sguardo. E quindi per esempio anche se percepiamo anche l'evento di Hiroshima, di Nagasaki, cerchiamo di non percepire questi eventi negativi, come per esempio questa bomba nucleare, eccetera. Cioè la nostra percezione non considera questo evento, non lo prende in considerazione, non percepisce questo status e invece li ristrutturiamo. E quindi noi così invece creiamo una linea sicura, felice della vita di tutti coloro che hanno sofferto in quell'evento. E quando noi provodiamo, da, вот этот свет, norme, через informazione ticucceva il tempo, quando facciamo passare questa luce della norma attraverso l'informazione del tempo presente, del tempo attuale? E'vonti questa nuova informazione, della norma attraverso l'informazione, la massa massavigata. Così noi portiamo la luce della norma nel passato, così sostituiamo questi eventi sfavorevoli, li sostituiamo con questi positivi e così in questo modo. Non permettiamo a questa situazione negativa di avvenire, almeno nel passato. E quindi noi così togliamo questi eventi dal passato e quindi vuol dire che noi così normalizziamo anche il presente, cioè per esempio prendiamo questi eventi, li portiamo via dall'area della realizzazione, invece li portiamo nell'area, gli eventi di cui non abbiamo bisogno, di cui anche l'umanità non ha bisogno, li portiamo nell'area di non realizzazione e così questi eventi non vengono realizzati e anche il presente si trasforma. Noi così portiamo ovunque questa luce dello sviluppo divino. Non permettiamo alla situazione sfavorevole di avvenire né nel passato né nel futuro, in più corrigiamo anche la situazione nel presente. Noi non permettiamo quindi di avvenire né nel passato. Nel passato né nel presente e quindi anche né nel futuro e così invece diffondiamo la luce divina sia attraverso questi eventi sia la portiamo all'infinito. E questo deve expandersi all'infinità. In questo modo vediamo questo flusso della vita eterna, felice e capiamo che ecco perché gli esseri umani sono arrivati in questa vita, quindi sono arrivati in questo mondo proprio per vivere una vita eterna, felice. E quindi così vediamo che il vostro stato di calma, il vostro stato tranquillo è uno stato pilotante in cui voi gestite e quindi cambiate anche gli eventi, la storia della civiltà, dell'umanità. E quindi così vediamo che quando siamo in questo stato di calma, in questo stato di tranquillità noi così abbiamo questo stato tranquillo. E quindi quando siamo in questo spettacolo, quando siamo in questo spettacolo, spettacolo, quando già potete vedere all'inizio, tutti i nostri spettacoli, per le linee di vita, è importante che il risultato non è stato statico, per sempre vedete il risultato. Quando guardate, non è stato statico. Da si trova il risultato, si trova il risultato, si trova il risultato, il risultato del risultato e il risultato del risultato. E sempre bisogna introdurre a vedere il risultato. Quindi così dovete vedere quindi lo sviluppo, lo sviluppo di questa luce verso l'infinità, dovete sempre vedere lo sviluppo. E таким образом, вы в какое время не посмотрите, увидите бесконечно хорошее развитие здорового, счастливого человека, не фиксируя отрицательного статуса, а видя именно божественное развитие, в виде света, идущего в бесконечность. E così, qualsiasi sviluppo che vedete, vedete sempre lo sviluppo felice e infinito, non sotto forma di status, ma vedete sotto forma di luce che va nell'infinito. E мы тогда, когда уже бурный поток всеобщей, вечной жизни, вот это счастье видим, уже тогда можем детализировать, проходить по линиям частным, кого мы воскрешаем, например, или исцеляем, да, проходить вот таким управляющим, нормирующим взглядом. E così, noi, così possiamo, quindi, anche, guarire le persone, in questo caso, per esempio, passando per la loro vita eterna, e possiamo normalizzarli, passando, per esempio, così, negli eventi della loro vita, con lo sguardo pilotante. То есть, наш взгляд, раскрывает в любых событиях прошлого бесконечно счастливое развитие, которое имеет бесконечно хорошее развитие в будущем. Quindi, il vostro sguardo apre questo sviluppo infinitamente felice, che apre lo sviluppo infinitamente edificante nel futuro, come vedete. На свои все события, все свои состояния, от создания, от рождения, все меняете, все проходите так, что будет бесконечно хорошо. То есть, у нас должны быть уравнены системы, они, по сути, уравнены будущие, да, которые нельзя изменить вообще никаким прошлым, все вообще воскрешение. Noi, così, vediamo, quindi, equaliziamo i sistemi, vediamo anche così. Per esempio, noi, in questo modo, possiamo vedere più chiaramente il futuro, come il futuro, della restrizione universale. No, это и было заложено изначально, именно вечная жизнь. Quindi, это должно быть соблюдено каждое мгновение, именно этот status реальности, когда неумирание людей. И, quindi, это должно быть соблюдено каждое мгновение, именно этот status реальности, тогда мы, именно вот этот уровень, да, всеобщего воскрешения, реализованный, этот цвет ставим на уровень нерешенных ранее задач. Прошлое событие этот цвет ставим. Мы, так же, если, например, мы, если мы не решаем, если мы решаем, если мы решаем, если мы решаем, если мы решаем, как мы решаем, мы решаем, да, в событиях прошлого, неумирание людей, вечную счастливую жизнь людей. E così noi solupiamo questi eventi, quindi della vita eterna, felice delle persone. E noi così attraversiamo la vita delle persone, le linee della vita delle persone, e vediamo così che noi così vediamo quindi la linea anche del nostro sviluppo felice ed edificante. E così vediamo anche la norma del pensiero, vediamo che c'è questo sguardo, quindi creante del nostro pensiero. Come dice Gregorio Petrovic, noi qui ricostruiamo l'oggetto dell'informazione, come dice Gregorio Petrovic, ce lo ricostruiamo pienamente, completamente. L'instrumento è la nostra coscienza, il nostro pensiero, noi realizziamo tutto questo nel nostro pensiero e nella nostra coscienza. In altre parole abbiamo detto che ogni oggetto dell'informazione si ricostruisce pienamente. E così vediamo l'oggetto. E così vediamo l'oggetto dell'oggetto. È entrato in questo pensiero, quindi lo ha sviluppato tutto con il vostro sguardo. Vedete che questo è il controllo pieno, questa è la ricostruzione della realtà. Non lasciate nessuna delle cose, nessuno di rispante, nessuno di rispante, nessuno di rispante, che ne rispante, nessuno di rispante. né образом, светом божественный свет нельзя держать никакой негатив в прошлом, потому что так человек очень жестко держит какой-то диагноз или какую-то ситуацию не нормированную в жизни каждый человек держит лично сам нельзя держать, нужно отпускать ну то есть менять нужно, раскрывать по другому все нужно Noi così dobbiamo sviluppare tutto, quindi dobbiamo vedere questa realtà divina, perché spesso una persona anche un po' si attacca alla propria diagnosi, però dobbiamo svilupparlo, dobbiamo sviluppare questa luce costantemente, continuamente. C'è una persona stessa anche attiene raggiudamente le sue problemi, per esempio, se attacca un po' si attacca con le sue problemi, con i pensieri, con il vecchio modo di pensare, con il vecchio modo di fare, eccetera, anche se forse anche logicamente capisce che non dovrebbe fare, ma semplicemente lo tiene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E quindi come dice Gregorio Petrovic, una persona deve essere a volte va in una direzione sbagliata, sta in un luogo per considerare sbagliata, se non è terminata in una situazione, per esempio deve capire che non deve, per esempio, che non deve, per esempio, attacarsi con la situazione, invece deve andare in una direzione giusta. E questa possibilità, costruire tutto, questa necessità, nella nostra necessità, il nostro corso la necessità, costruire tutto, in un'albergo, assolutamente tutto. e quindi noi così abbiamo la possibilità di ricostruire tutto non dobbiamo lasciare niente non sviluppato dobbiamo portare tutto invece allo sviluppo positivo allo sviluppo favorevole perché questo è il gioco che ogni obiettivo di informazione è rinforzato ma rinforzare è rinforzato, è rinforzato, è rinforzato è rinforzato, è rinforzato, è rinforzato per pensare in questi casi, per mantenere il mondo in questo stato quando non è possibile rinforzare Gregorio Petros dice che noi dobbiamo lavorare con le informazioni di qualsiasi obiettivo ricostruire perché noi abbiamo bisogno della ricostruzione perché per fare in modo che sia impossibile la distruzione No, noi svegliamo solo rinforzare l'esempio come si può vedere l'esempio di un'esempio creando norme, normando tutto il futuro, il tuello e il futuro quindi così stiamo semplicemente vedendo l'esempio come dobbiamo normalizzare tutto come dobbiamo normalizzare il passato, il presente e il futuro Noi così vediamo che secondo queste leggi è ricostruibile quindi qualsiasi oggetto dell'informazione se noi lavoriamo con l'informazione di qualsiasi oggetto allora ogni oggetto viene ricostruito quindi questa tema, questa leggi è più in più in partenza della ricostruzione in plane lavorazione principi vielen основ têm in tube healing in deb community in particolare Mobilità A in quanto stelle la ricostruzione cronyi e noi così vediamo che questa lezione si diffonda a tutti i principi dell'insegnamento a qualsiasi oggetto dell'informazione ma anche se vediamo Vediamo che se guardate in questo stato il mondo eterno e il mondo multidimensionale è un mondo ideale. Noi così vediamo questo lato del mondo dove c'è la manifestazione di Dio. E se noi percepiamo il mondo come la manifestazione di Dio, lo ricreiamo nella norma. E se guarda il mondo, dove c'è la manifestazione di Dio. In un punto concreto. E in qualsiasi elemento conseguenziale. Attraverso la struttura della sua anima. Noi così vediamo che tutte le manifestazioni di Dio lì dove c'è, dove è venuta, lì in effetti rimane. E noi vediamo che è lì dove quindi l'essere umano si manifesta. Questa è anche la manifestazione di Dio. Tutto questo rimane e non può sparire. Noi così vediamo che lì dove l'essere umano rimane. Questa è la manifestazione di Dio. Quindi è lì dove questo è avvenuto. Dove per esempio l'apparizione dell'essere umano è avvenuta. Tutto questo rimane. Noi dovremmo vedere come pensa Dio. Dobbiamo guardare proprio così, secondo questo livello. E questa è la possibilità di rinforzare. è la possibilità di rinforzare. Quindi vediamo la manifestazione di Dio, vediamo la sua manifestazione, vediamo che Lì è qui, c'è questa è la sua creazione. Quindi vediamo che la creazione dell'essere umano è la manifestazione di Dio. E noi possiamo sempre ricreare, secondo la norma, questa luce. Quindi vediamo la presenza di Dio a qualsiasi livello dell'informazione, in qualsiasi azione. Quindi, per esempio, che ha creato un'essere umano è l'essere. le, dopo esempio, che ha dato l'essere umano è la libertà. E l'essere umano ci ha fatto l'essere. E quindi così vediamo che Dio è anche presente negli elementi conseguenziali, dove c'è l'essere umano. Per esempio, lì è presente anche Dio. E quindi così, per esempio, in realtà molte persone, quando vedono la manifestazione di Dio in qualcosa, chiamano quella cosa divina, dicono, c'è la presenza di Dio, cioè non lo dicono direttamente, ma lo implicano, per esempio, chiamando qualcosa divino. То есть, вот, чем ближе человек к Богу, чем более развит, как бы, вот в этом контакте с Богом, тем божественнее его действия, его произведения у человека, ну, если можно так сказать, да, тем больше даёт возможности проявить мир у Бога через уже свои действия, через своё мышление. Quindi, più l'essere umano sviluppa le sue possibilità, più, quindi, permette a se stesso di manifestare Dio nel suo pensiero, di manifestare Dio nelle sue azioni. E noi andiamo глубже. E noi andiamo vedendo proявления Бога in действiare, in любых действiare, in pensiero, in tutto, che producono le persone, che noi produciamo. Quindi, noi andiamo vissostare e tutte le действiare e in pensiero, noi andiamo all'essere normare, noi andiamo vedendo proявления Бога. E quindi così iniziamo ad agire e iniziamo a vedere la manifestazione di Dio. Вот очень важно in вот этот момент, да? В любом элементе мышления, у нас же инструмент, да? Воскрешение, восстановление, мышление. В любом элементе мышления присутствует Бог. Molto importante qualsiasi elemento del pensiero. per esempio nella ricostruzione, nella rigenerazione. Noi così vediamo che in ogni elemento del pensiero Dio è presente. Начинаем смотреть на свое мышление. На мышление вот можно смотреть как бы со стороны, вот некая сфера, да? Вот это наше... Мы начинаем смотреть а что у нас там за мысли. И начинаем тогда свои мысли как бы раскрывать, проявлять Бога в элементах своего мышления. Начинаем как бы нормировать вообще-то свое мышление. Те пласты, которые там могут быть такие залежавшиеся, к которым мы никогда не прикасались, да? Но задача восстановить все, поэтому нужно работать со своим мышлением. и так начинаем работать с нашим думаем. Видимо, что если нашим думаем тока что-то, все ремонстрирует все, все ремонстрирует все. Поэтому нашим цель это там бесконечно счастливой жизни и себе и другим людям, да? уже не смотрим кто прав, кто виноват. Тут надо всем раскрыть бесконечно хорошее развитие. Сразу всем. ремонту мы 別 от у ремонту ав Ma per esempio guardiamo in questi eventi dove è apparsa questa rabbia, le cause eccetera, cerchiamo di aprire lì invece la luce della vita eterna, la luce divina, perché è molto importante anche liberarsi dai rancori, dalla rabbia, per quindi avere lo sviluppo eterno. Anche nel libro, in numeri per il business di successo, c'è questa tecnologia che noi sentimente realizziamo nel nostro pensiero, quindi in cui noi permittiamo le cose negativi. Noi così iniziamo a pensare in questo modo e vediamo così la manifestazione della luce di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio. E quindi quando Gregorio Petrovic ha passato sulla struttura del pensiero, E così vediamo che il pensiero dell'uomo è l'azione del corpo di Dio. E quindi così vediamo la manifestazione di Dio in tutta la realtà, vediamo la manifestazione della sua luce. Quindi vediamo così la manifestazione dell'amore di Dio. Vediamo che Dio è presente ovunque e sempre perché Dio alla fine è eterno, giusto? Vediamo che Dio è presente ovunque. Vediamo che Dio è unico, ma nel stesso tempo lui è continuamente presente ovunque. Dio è unico, ma nel nostro pensiero, quando individuiamo questa luce, vediamo che Dio è unico, ma nel nostro pensiero, quando individuiamo questa luce, vediamo che questa è l'azione del corpo di Dio. E quindi così Gregorio Petrovic determina che cosa è il pensiero dell'uomo. è l'azione del corpo divino, del corpo di Dio. Quindi la percezione è tale che il pensiero è l'azione del corpo divino, del corpo di Dio. Noi così vediamo come è costruito il corpo fisico dell'unico Dio, come agisce. E quindi così ogni cellula controlla l'azione del corpo fisico dell'unico Dio, controlla la realtà. E dire e tipo, il movimento di Dio, il movimento del corpo fisico dell'unico Dio, edificato il movimento di Dio. ma non spiega, non lo spiega, nonござ 노 irlo, anche ogni strutturato, la morte nervosa, la morte del fisico, la morte del corpo, la morte che si succede, ma è un'abbia di riflessione, è un proiettalo in pensiero, quando gli abimedi la merita, pensiamo a pensieri, è un'abbia di fisico del fisico, e quindi è così che vediamo anche questo tipo del pensiero quando abbiamo questo pensiero creativo edificante quando sistiamo le cose in questo modo per esempio con questa tecnologia in realtà non è soltanto una forma del pensiero ma è esattamente l'azione del corpo fisico lo è un'illustre e quindi abbiamo un'illustre è solo un'illustre e tutti pensiero e quindi pensiero è che ci sono è un'illustre è un'illustre di un'illustre e quindi è un'illustre e vediamo che questo pensiero è l'azione del corpo fisico dell'unico Dio. Perché? Noi così vediamo, ora provate a lavorare con gli eventi del passato in cui per esempio c'è stata la rabbia, c'è stato il rancore e provate a vedere che lì c'è proprio si manifesta il pensiero del corpo fisico dell'unico Dio. E quindi noi così definiamo il pensiero dell'uomo. Il pensiero dell'uomo è la definizione del corpo fisico dell'unico Dio. Quando noi facciamo questo processo? L'uomo è l'unico Dio. L'uomo è l'unico Dio. E quindi noi così vediamo che diffondiamo questa azione ovunque e vediamo che tutti hanno questa possibilità. quindi tutti hanno la possibilità di avere questo pensiero di Dio e di pensare con queste categorie infinitamente sviluppate. E quindi noi così percepiamo subito il corpo fisico dell'unico Dio. Quindi così percepiamo il nostro corpo, scusate, il nostro pensiero anche come unificato. Ora quando pensate a Dio provate a percepire la sua manifestazione nel vostro pensiero perché Lui si manifesta nel vostro pensiero. Lui si è sempre con noi. E quindi noi così ora cerchiamo di percepire Dio con tutte le nostre strutture. la presenza di Dio con tutte le nostre strutture, eccetera, anche fisicamente con tutte le nostre fibre, per così dire. Dio che dovrebbero perdere la sua struzione. Dio con tutte le nostre strutture, perché non spostano e non compostano. E non compostano. E non compostano. E non credo, non credo. Ma non finita, non capisano. E non capisano. E non capisano. E non capisano. E non capisano. o quale individuale lavoro che è necessario fare, propostare a Boga in tutte le strutture, proiettare in tutte le strutture. Il problema è vedere solo quello che non propostano, dove c'è altro? E che dobbiamo liberarci dai nostri problemi. Il problema delle persone è che le persone spesso non fanno passare Dio in tutte le loro strutture, nei loro pensieri, eccetera. Quindi spesso si attaccano a Vicky Maldemissari, a Rancori. Zacastò Бог держит определенную ситуацию, или душa человека держит определенную ситуацию, для того, чтобы человек выровнял прошлое, потому что по-другому не получится. Пока не сделает определенную работу, пока в чем-то не разберется, не будет дальше развития. Для чего? Для чего? Что мне нужно? Идет ситуация, что мне в связи с ней нужно восстановить. Что исправить? Это же просто, как бы, такой закон. И так мы видим, что мы должны когда мы начинаем думать так, когда мы видим на manifestание Део в нашем pensице, если мы спросим, если мы спросим, Луна нам издает что мы должны корректировать, например, в нашем pensице, что мы должны думать. Эти знания это большая радость. Ну, это большое открытие, откровение, что Бог вообще везде, да? Просто нам, как бы, настроиться и в нашем мышлении, и вообще все вечное. И вот, и выходить, выходить вот на эту радость, контакт. И так мы рассмотрели, что Тело Бога является в унифицированном варианте. И логически нам ясно, что Бог присутствует в мышлении человек, он создатель всего, в том числе и ткани нашего мышления. Даже само наше мышление вообще все создает он. Вот это как-то надо сюда нам углубляться. Может, пожалуйста, включить видео одной участницы, просто эфо создается, потом записи тоже будет. Я не видела. Сейчас. Нет. Ну вот, на сегодня, я думаю, достаточно. bene per oggi è tutto e quindi leggerete questo testo lo leggerete, ascolterete anche l'audio quindi così noi dobbiamo capire che cosa è il nostro pensiero, a cosa è diretto dove va esattamente il nostro pensiero verso dove quando è così dobbiamo pensare possiamo vedere che in questo modo quando il nostro pensiero si illumina con questa luce noi siamo in grado di creare le opere d'arte con questo tipo del pensiero e questi pensieri sono dei pensieri pelotanti questo è il pensiero di creazione di creazione della realtà edificante della realtà pelotante grazie mille a tutti e arrivederci grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie a tutti grazie a tutti